Certamente, questa è la volontà popolare. Come si sente in questo momento, professore? Assolutamente, io pensavo che i principi e le considerazioni che avevamo fatto in questi giorni fossero stati ben accetti, perché nella prima parte del 10 giugno l'indicazione da parte della cittadinanza era stata positiva, per cui abbiamo proseguito su quella linea che pensavamo fosse quella dell'antipolitica, del nuovo metodo Messina, del nuovo modello Messina e soprattutto un approccio completamente diverso da quello degli inciuci, dei trasversalismi e di tanti altri ritorni al passato. Per quanto ci riguardava tutte le accuse, io non ho sentito prima chi era che parlava perché avevo un ritorno in cuffia, non ho capito nulla quello che diceva, però ripetendo un attimo quelle che erano state le accuse verso di me, che avevo i poteri forti, che avevo la regia, che noi avremmo vinto perché avevamo di questo e di quello e noi abbiamo sempre detto che siamo persone per bene e oneste e che facevamo una politica di condivisione e di partecipazione democratica, da questi risultati potete capire che poteri forti non ne avevamo.